No, no, raddoppio di Ronaldo, semplicemente fantasmagorico, raddoppio di Ronaldo, semplicemente fantasmagorico, attenzione, sentite il pubblico, tutti che si alzano in piedi, standing ovation dell'Allianz Stadium per Cristiano Ronaldo, che ha fatto qualcosa che passerà nella storia. Rovesciata volante, a spiazzare Buffon, mettendo il pallone sul palo lontanissimo. Questo è un giocatore inarrivabile, questo è un giocatore che non si può contenere, questo è un giocatore che ha scritto, sta scrivendo e scriverà la storia di questo sport. Cristiano Ronaldo ringrazia il pubblico di Torino, ma questo applauso di questo pubblico, in questo stadio, dimostra come i campioni a tutte le latitudini vadano non solo rispettati, ma anche osannati, quando compiono prudezze di questo tipo. Grazie a tutti!